La pubblica assistenza Ampas Croce Bianca di Acquiterme ha celebrato i 100 anni di fondazione con il patrocinio della città di Acquiterme, della provincia di Alessandria e della regione Piemonte. E' cresciuto con la città accompagnandone i cambiamenti, le ambizioni, le difficoltà. Da un'esigenza del territorio concretizzata nel 1919 la Croce Bianca di Acquiterme ha saputo trasformarsi in una risorsa fondamentale crescendo nei volontari e nei soci che la sostengono e diventando un punto di riferimento consolidato per l'intera comunità. Per questo l'intero territorio ha voluto festeggiare il traguardo con una giornata all'insegna dell'allegria e della voglia di stare insieme. I volontari, i soccorritori e il corteo delle ambulanze e delle consorelle Ampas hanno sfilato per le vie cittadine. Alla testa della parata hanno trovato posto i gonfaloni e i labari delle associazioni partecipanti e delle bande musicali di Acquiterme e della città di Pizzo Ferrato. Il momento solenne della benedizione della bandiera si è svolto nella parrocchia San Francesco di Acquiterme alla presenza del vescovo Luigi Testore. Al termine si è assistita all'inaugurazione della nuova ambulanza per il soccorso avanzato, la numero 50 della Croce Bianca di Acquiterme. Dopo il pranzo sociale i giovani volontari della Croce Bianca hanno riproposto una divertente iniziativa aperta alle associazioni e consorelle Ampas che hanno partecipato al centenario della Croce Bianca, i 100 metri di Corsa con le Barelle, una gara tra soccorritori nata oltre 50 anni fa. Al termine si è tenuta la premiazione dei volontari e dei donatori di sangue. Il volontario con più anni di servizio è Bruno Torielli che ha ricevuto la benemerenza per i suoi 53 anni di attività nell'associazione Acquese. Ritengo che la manifestazione sia riuscita benissimo in tutte le sue fasi, in tutti i suoi momenti. I militi mi hanno dimostrato, mi hanno già detto di essere stati tutti molto soddisfatti, tutti contenti. Io non posso far altro che ringraziare tutti i miei militi, tutte le persone che ci hanno aiutato a organizzare questa manifestazione e ovviamente devo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato direttamente o indirettamente all'evento, iniziando dalla parte politica, non dimenticandomi della nostra associazione dell'Ampas che ha partecipato attivamente a tutta l'organizzazione del nostro centenario e tutti i nostri fornitori e amici. Ai tempi, una notte, alle 3 di notte, siamo andati su un paese qua a Roccaverano che cerca 20 km d'acqui, con la neve per terra, siamo andati a prendere un neonato prematuro, l'abbiamo preso con la valigetta che è da portare i neonati a strezzata, che poi avete già il video, e praticamente siamo andati da Roccaverano fino alle Sandri con questa valigetta in mano e tenere questo bambino che è nato. E ancora oggi questo bambino vive perché ha qualche anno e vive e sta bene. Ed è una bella cosa perché è una soddisfazione che hai salvato una vita umana, con la neve, una storia all'altra. Non c'erano i dottori ostetriche o tutte le attrezzature che ci sono oggi per far nascere un bambino, che quando nasce un bambino nasce già una struttura con dottori e tutte quelle questioni lì. E quella è stata una bella speria. Faccio parte del gruppo giovani, oggi riproponiamo una corsa storica che si riproponeva già circa 50-60 anni fa con le barelle. La corsa si rivolge su 100 metri e due persone devono portare una barella senza mai staccare le mani e cercando di arrivare al traguardo nel minor tempo possibile. Come gruppo giovani siamo molto orgogliosi di riproporre questa gara. Il nostro gruppo giovani è composto da circa 20-25 persone, 25 ragazzi che si impegnano per creare delle iniziative e delle manifestazioni per la nostra associazione.